Ciao a tutte ragazze, oggi vorrei fare un video tag il video tag di cui vi voglio parlare è cosa c'è nella mia borsa allora iniziamo subito, vi faccio vedere la mia borsa ed è questa fiorellini molto molto grande con hello kitty è molto estiva, adatta per questi periodi di caldo appunto per questi periodi estivi vi faccio vedere, è molto capiente potete metterci di tutto io nella borsa porto sempre il portafoglio questo qui è della cartisa ha la tartarughina della cartisa e dentro qui ho le mie tessere la carta d'identità qui ci sono i soldi qui ci metto i soldi di carta poi in quest'altra cerniera ho gli spicci poi ha vari scompartimenti dove poter mettere scontrini, carte e robe varie poi continuiamo porto sempre con me una bottiglietta d'acqua perché non si sa mai che camminando ci venga sete così possiamo bere poi i miei occhiali da sole sono questi sono leopardati poi mi porto sempre una maglia con me così se magari la sera fa più fresco posso mettermela così non ho più freddo appunto un cardigan proprio una maglietta questo qui poi le mie chiavi si vedrete molti ciondoli perché a me piace mi piacciono molti portachiavi questo qua il ringo di fimo poi questo qua dei didol penso che l'avrete visto molte volte ho scritto il mio nome abbreviato questo qua questo cuore preso da segue che mi è stato regalato da una mia amica questo qui un'idea e lochitti teso in quelle macchinette che ci mette il soldino oggi riesce la pallina e c'era questo ovviamente le chiavi di casa e altri ciondoli poi come ultima cosa perché io in borsa non metto molte cose perché poi diventa pesante sulla spalla quindi porto soltanto il minimo necessario sto usando queste salviettine della Huggies quella che si usano per i bambini le salviettine umidificate sono queste qui così in caso che ho le mani appiccicose prendo una salviettina di queste se non c'è un bagno a portata di mano e me le pulisco subito penso che ce ne siano 16 durano 3 mesi e basta non so quanto costano perché le hanno regalate a mia mamma dato che lavoro in ospedale gli danno dei pacchetti per bambini per persone che hanno avuto bambini che li regalano faccio vedere la borsa vuota vi faccio vedere dentro com'è questa è la borsa qui ha una taschina dove poter mettere il cellulare e robe varie ovviamente porto anche il cellulare lo ho qui però adesso però adesso non l'ho messo in borsa perché il giorno penso che tutti come me lo usano ebbene ragazze questo è tutto spero vi sia piaciuto questo video e vi sia stato utile anche anche a voi vi aspetto al prossimo video ciao un bacio